Eccoci qui cari amici di Viene a Vivere all'estero, buongiorno e benvenuti, questo sarà un video brevissimo per farvi vedere che finalmente ho potuto dopo anni avere la gioia di aprire l'ombrello senza che il vento me lo strappasse, quindi è una delle cose che quando vivete in un paese ventoso non potete più fare e quindi mi godo il momento che effettivamente piove abbastanza e non mi sto bagnando e non mi sta venendo l'acqua in faccia, ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao!